Cari ragazzi, io voglio fare una richiesta a tutti i ragazzi di YouTube. Vorrei che in un vostro video parliate di me, perché mi piace sentire le opinioni di altre persone. Mi piacerebbe sentire quello che dite di me. Perché non mi fate un video intitolato Parliamo di Lorenzo Valitutto? Vorrei che chi mi conosce, che mi ha visto su YouTube, mi faccia un video Parliamo di Lorenzo Valitutto. Anche chi non mi conosce può fare un video. Però, mi raccomando, guardatemi prima su YouTube, conoscete bene i miei video e dopo fate un video Parliamo di Lorenzo Valitutto. Grazie. 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 Grazie.